FURTO NEL QUARTIERE DEI DIAMANTI DI AMSTERDAM Interpol ritiene che il gruppo di resistenza cecena sia responsabile, così come di altri furti realizzati in Europa, forse per finanziare i propri obiettivi politici. È Jonathan Coyle. Ex agente della CIA. Attualmente mercenario professionista specializzato in azioni sotto copertura e armi nucleari segrete. L'aspetto da tenere presente è il livello di plutonio delle aree. Alla fine bruceranno tutti all'inferno, questo è sicuro. Questa è stata dotata di 23 processori e 8 cariche, con movimenti lenti allontanati da quella bomba. Steven Seagal, Black Dawn